Periodo di Open Days per la scelta degli istituti scolastici, in cui ogni istituto sfodera le sue armi migliori proponendo progetti, idee e realizzazioni in modo da attrarre gli studenti. Alla Pascoli, scuola secondaria di primo grado, gli Open Days si terranno il 13 dicembre e l'11 gennaio, dalle 16.30 alle 18.45, incontri allietati dalle musiche della banda giovanile cittadina. Tanto spazio quindi ai laboratori, robotica, inglese, arte, musica e lettura animata, il tutto volto per favorire l'accoglienza e la socializzazione, sviluppare la creatività e il gusto estetico. Riapre l'Indiga, sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.00.